Sono Valeria Vertemati, allieva del Conservatorio dell'Asiziae Italiana. Ho realizzato questo video perché vorrei ringraziare moltissimo chiunque abbia sostenuto e voglia sostenere il Fondo di Solidarietà istituito dal nostro Conservatorio per noi studenti in questo periodo di emergenza e di difficoltà per il mondo musicale. Sono molto grata al Fondo e al Conservatorio perché per me è stato un aiuto molto molto notevole e per questo vorrei suonare per voi un estratto dalla Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach. Grazie a tutti. Grazie a tutti.